del decreto legislativo 198 del 2006 e quindi che una donna che solo perché aveva 61 anni al 31 12 2011 e 20 anni di contributi può avere il diritto ad andare in pensione ma non può essere collocata coattamente in pensione che equivale quindi per lei a un licenziamento con una pensione veramente troppo bassa per vivere onorevole gniecchi non ho capito però se l'emendamento viene ritirato a questo punto ok l'ho detto tre volte onorevole rizzetto su che cosa grazie presidente grazie anche alla collega gniecchi che è sempre molto puntuale nel ricordare questa questa vicenda quindi presidente la mia richiesta di farmiro l'emendamento è di votarlo onorevole rizzetto allora l'emendamento può essere fatto proprio da un gruppo parlamentare o da un numero di deputati pari alla consistenza di un gruppo parlamentare mi servono almeno 20 deputati voi essendo una componente inferiore a meno che non ci sia un gruppo parlamentare onorevole pini prego facciamo nostro perfetto voi avete le condizioni per poterlo fare quindi a questo punto lo pongo in votazione ed è l'emendamento l'emendamento 13.37 collega che succede onorevole rizzetto mi chiede di intervenire e non è che mi fate no e lui mi fa sì lo saprà se vuole intervenire prego non era insieme era quindi per sottoscrivere grazie presidente da parte del nostro gruppo l'emendamento grazie benissimo onorevole un momento con calma onorevole polverini prego per sottoscrivere anche noi l'emendamento grazie diciamo lo sottoscrive lei politicamente a nome del gruppo però è ciascuna singola persona sì sì va bene onorevole placido prego scriviamo tutti quanti è inutile che facciamo 20 dichiarazioni ciascuno può dichiarare di sottoscriverlo personalmente poi potete andare verso gli uffici e sottoscriverlo per